presepe 2020 cosa rappresenta questo presepe un'arena è un castello che ho trovato giù nella cantina di quando ero piccolo questa rena era dipinta in rosso era plastica rossa ridipinta è diventata l'arena dove tante persone ogni giorno combattono contro mostri che abbiamo creato noi e c'è sempre qualcuno che si diverte a guardare la gente che combatte però abbiamo la libera scelta di andarcene da questa arena attraversare un ponte vedere nuova gente che arriva e andare magari da un'altra parte dove sono state costruite delle case tutte queste parti del castello con le stalle non c'erano le ho costruite per poter accogliere in una casa quel bambino lì con il bue e l'asinello e i gladiatori e i romani e i greci che festeggiano gli egizi tutti riuniti per avere un po di pace arrivano i cowboy con il punto ristoro le loro mucche i giapponesi i tedeschi della seconda guerra mondiale tutti quelli che fino a quel momento avevano combattuto in un'arena hanno scelto di attraversare un ponte fare un percorso e scegliere la pace invece della guerra buon natale a tutti